Dall'inizio del 2016 almeno 58 donne sono state uccise in Italia dal partner o dall'ex fidanzato. Oltre al femminicidio esistono ragazze, madri, figlie che nel silenzio subiscono sopprusi. Quasi 9.000 donne sono state vittime di violenze e 1.261 di stalking. E purtroppo il 90% di queste donne non denuncia d'aliati di sopraffazione. Perciò basta, basta con la violenza sulle donne, basta. Ecco perché io aderisco alla campagna della Polizia di Stato, questo non è amore. Amiche donne, non dovete avere paura di denunciare i comportamenti violenti subiti, perché se un uomo maltratta una donna, questo non è amore. Non, non dovete.